Weeeh, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! 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 Weeeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quante novità nel video di oggi per quello che riguarda il futuro di Fortnite! Già vi anticipavo ieri che giorno dopo giorno siccome ci sono ancora dei pacchi criptati nei file del gioco riemergono tanti fattori che sono veramente incredibili a partire ragazzi delle news nello shop a votazione! Sono appena stati trovati dei file audio che vi farò sentire durante questo aggiornamento relativi proprio alla nuova modalità di riportare un oggetto raro nello shop per tutti! Ma arriva anche finalmente la collaborazione come avevamo anticipato tre giorni fa di Fortnite di Ninja con Adidas! Vi farò vedere delle immagini davvero incredibili per questa collaboration unica al mondo nel suo genere! E poi ancora il bundle della season 10! Si ragazzi si è scoperto che arriverà probabilmente fra una massimo due settimane il nuovo bundle! Vi ricordate quelli delle season precedenti? Il Lava Legend! Il Frozen Legend! Beh ragazzi! Beh ragazzi! Prima di tutto però volevo ringraziare tutti i ragazzi che mi supportano utilizzando il codice creator Xyuderone! Grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando scioppazzate di prepotenza dove cavolo è! Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima... E dai! E che ve lo dico a fare raga? Ve la domandina! Grazie come sempre per tutti i commenti che pubblicate ogni giorno alla domandina! Quella di oggi è molto facile! Ma cosa ne pensi di Pandora? Insomma ragazzi oramai sono già due giorni che è arrivata la nuova city tra virgolette la nuova location chiamiamolo location al posto del vecchio track and oasis e della discarica cosa ne pensate a me personalmente punti positivi mi piace la grafica bella non lo so perché mi piace tantissimo belli nuovi chest punti negativi c'è un botto di gente uno e secondo me si fanno pochi materiali per la mole di gente che c'è! Ma per il resto a me piace tanto! Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti! Ma quindi... Ciancio alle bande! E bando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo argomento di oggi eccolo qua bello come il sole il nostro Tyler Blair Wayne non mi ricordo come si chiama di cognome arte alias ninja vi ricordo tre giorni fa avevo pubblicato 15 secondi di video dove si intravedeva una un qualcosa che non si era capito avevamo supposto che il carattere utilizzato fosse quello di adidas e si ragazzi ci avevamo preso eccola qua meravigliosa la felpa di ninja in collaborazione con adidas è una cosa incredibile ragazzi non è una collaborazione basta è una cosa incredibile perché adidas intanto questo è il papà di ninja non sto scherzando come si come si dice adidas ragazzi io so che allora io sono un collezionista di tutte vintage di adidas perché mi piacciono tantissimo ma a quanto ricordo io non mi sembra che adidas abbia mai fatto degli sponsor mirati con degli sportivi sicuramente c'è stato qualcosa ma di certo ninja è il primo gamers ad ottenere una collaborazione a questo livello ragazzi parliamo di adidas non è che parliamo di gnocco frito vale lunga nel senso capiamo un attimino che è una delle marche se non una delle più famose al mondo quindi complimenti ancora al nostro tyler che riesce come sempre a buttarsi in sacoccia un bel po di milioni ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed eccola forse non ve ne siete accorti ma arrivano dei leaks che in realtà sono cose presenti in game a montagnole maledette è apparsa una nuova statua ragazzi e questa statua che voglio farvi vedere in forma completa non è altro o meglio sembrerebbe la versione femminile del love ranger quindi potrebbe arrivare non capisco se il microfono è alto e basso lo alziamo un pochino potrebbe potrebbe arrivare ragazzi molto probabilmente in game o potrebbe anche essere parte forse del bundle non è detto ragazzi comunque molto molto chiara la versione femminile le ali sono esattamente identiche ma anche la fasciatura si può riconoscere e assolutamente associare al nostro love ranger quindi staremo a vedere se arriverà anche questa nuova skin e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi queste sono delle immagini che sono relative al nuovo shop a votazione voglio farvi sentire dei file audio presenti proprio nei file di gioco ascoltiamoli assieme questi ragazzi sono ve li faccio risentire intanto saranno dei file disponibili qua abbiamo anche un'altra immagine intanto relativa sempre allo shop a votazione saranno associati appunto probabilmente o all'acquisto o alla comparsa di oggetti che verranno votati proprio da noi giocatori di fortnite e che potranno tornare per un periodo super limitato nel shop è quello quotidiano abbiamo già visto un paio di settimane che ci sono già nei file di gioco alcune voci riguardanti lo shop a votazione sembrerebbe che ci siano anche degli sconti quindi non necessariamente pagheremo gli oggetti a prezzo pieno sembrerebbe che gli oggetti siano a numero limitato quindi non come lo shop normale disponibili appunto per tutti ma solo per una certa quantità di persone sembrerebbe e sappiamo ovviamente che arriveranno e che saranno acquistabili chiaramente in vbucks quindi appena ci saranno altre news io credo che in questo season dovrebbe arrivare lo shop a votazione ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento e tenetevi forte svalabam questo ragazzi è preso dai codici sorgenti del gioco e conferma l'arrivo del nuovo bundle della season 10 il bundle si chiamerà dark legends bundle ovviamente le skin saranno tre i nomi dark wild card dark red knight e dark jonesy quindi tre stili tre nuove skin in realtà per il jolly wild card sarebbe jolly per noi il cavaliere rosso e jonesy ancora riportato dentro avremo anche e si conosce il nome di un backpack che è il dark shield sì anche perché wild card ha il backpack ma si vede che non gliel'hanno fatto e dark axe quindi il piccone invece sempre relativo abbiamo anche delle descrizioni che dice in poche parole vuol dire arrivano dalle dalle ombre dark legends quindi dall'oscurità l'oscurità ritornerà un'altra volta e ragazzi questa frase è molto interessante perché potrebbe anche essere conducibile alla season 11 l'oscurità tornerà un'altra volta potrebbe tranquillamente essere associata al fort nightmares che non è altro che l'evento più importante in game da due anni a questa parte di fortnite e casualmente nella season 11 ovviamente entreremo nel periodo ottobre novembre e dicembre dove appunto ci sarà molto sicuro molto certa molto certamente non si dice ma è per dire che ci sarà per forza il fort nightmare se l'oscurità è associata ovviamente a questo evento ragazzi anche oggi le news sono fioccate giù come la neve io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao